Sempre più incandescente il clima tra opposizione e maggioranza alla Camera, sul disegno di legge e sulle riforme costituzionali. All'indomani della rissa scoppiata in aula per la proposta del PD di andare avanti con una seduta a fiume, giovedì sera è stato di nuovo caos. Al termine di una giornata tutta all'insegna della tensione e dello scontro, l'emiciclo di Montecitorio è stato di nuovo teatro di una vera e propria rissa, nella quale è rimasto coinvolto anche il deputato irpino di SEL Giancarlo Giordano, intervenuto per sedare gli animi e separare i compagni. I 5 Stelle che chiedevano che venisse rinviata la discussione dell'articolo 15 hanno iniziato a battere i faldoni degli emendamenti sui banchi e a gridare ritmicamente onestà, onestà. In questo clima è scoppiata la rissa con deputati in piedi tra i banchi e insulti, coinvolti in particolare deputati del PD e di Sinistra Ecologia e Libertà, con due parlamentari che sono finiti in infermeria, Gianni Melilla, segretario di Presidenza, ferito ad una mano, e Donatella Duranti, che aveva una spalla dolorante, entrambi di SEL. Il vicepresidente Roberto Giacchetti è stato costretto a sospendere la seduta e a chiedere di allontanare alcuni tra gli onorevoli più facinorosi. A notte inoltrata, a luned30, è arrivato anche Matteo Renzi, visti in mal di pancia all'interno del PD. La minoranza ha chiesto un'assemblea del gruppo per esprimere il malumore per il pantano in cui è finita la riforma.